Il nostro viaggio, nell'interno del Vangelo di Matteo, inizia, vuole iniziare, con una premessa. Altre volte io ho cominciato con delle dichiarazioni introduttori che hanno un po' la funzione di offrire, sia pure in maniera molto primitiva, una specie di metodo di lettura. Sono delle premesse che io ho distribuito in tante altre occasioni, non sono un discorso in sé compiuto, però vorrebbero tendenzialmente offrire una specie di diagramma, una specie di trama, di disegno del come leggere la Bibbia, non soltanto dei contenuti che io, nell'interno di questi incontri, di solito distribuisco, proprio per far sì che cresca in qualche modo la capacità di lettura autonoma. Ho voluto suggerire, vorrei suggerirvi tre premesse. La prima è una premessa che riguarda in realtà me. Tutte le volte che io comincio questo corso, ormai sono moltissimi i corsi che abbiamo alle spalle, io devo dire che non sono preso dall'abitudine. Io considero sempre un corso di questo genere con una certa trepidazione, anche se, come potete ben immaginare, c'è un lungo esercizio al mare al parlare in pubblico. Anzi, come ben sapete, è la cosa che io sento di più come un peso, questo eccesso di presenzialismo quasi, serie e continue di conferenze. E d'altra parte, però, pur avendo questa grande abitudine, io sento sempre con una trepidazione soprattutto questo incontro del San Fedele, perché non soltanto per tutto questo pubblico che è qui presente, ma anche per tutti coloro che, come sapete, poi echeggiano la voce che c'è qui e l'ascolto che è iniziato e germogliato qui questa sera. E allora sempre c'è il sospetto di non venire incontro alle attese di una lettura. Per questo motivo io metterei come primo verbo, ancora una volta, il verbo dell'ascolto. E' necessario ascoltare molto e ascoltare vuol dire cercare il più possibile di captare il messaggio che arriva, sia pure attraverso la mia voce, attraverso altri canali, con una capacità profonda di recezione. E' curioso che, per esempio, nell'interno di un Salmo, si dica, Salmo 40, si usi questa espressione per parlare della trasformazione di una persona. Si dice, Tu, oh Signore, mi hai scavato l'orecchio, quasi come fosse un'opera di penetrazione, un vero e proprio scavo in profondità. L'orecchio non basta soltanto colpirlo con dei suoni, è un organo che è estremamente delicato perché raggiunge il pensiero dell'uomo e ascoltare è un esercizio continuo che devo fare io e devono fare tutti. E naturalmente per parte mia c'è sempre l'impegno a far sì che questo ascolto sia facilitato, per voi sia facilitato, quindi qualche volta io farò naturalmente un po' anche delle semplificazioni. D'altra parte io ricordo spesso con piacere, con un po' di ironia, quello che ha insegnato un grande maestro del deserto al suo discepolo che gli chiedeva come si fa a parlare in pubblico. E' uno degli apostegmi dei padri del deserto. Padre come deve essere un discorso, gli dice il discepolo, che era stato nominato igumeno, responsabile di una comunità. E il grande maestro gli dice due sono le leggi del vero discorso. Un discorso deve avere sempre un buon inizio e una fine accattivante. E la seconda legge dice più importante della prima, perché la prima è facile un po' da conquistare. E poi tu fai in modo che l'inizio e la fine siano il più vicino possibili. La brevità sarebbe certamente una cosa importante. Riuscire a tenere l'attenzione, l'ascolto per un'ora non è facile. E quindi richiede veramente da parte vostra un grande impegno di cui io sono consapevole. La seconda cosa, il secondo verbo, direi, è il verbo del leggere. Non solo perché io suggerisco sempre dei commenti, dei commenti sono anche attorno al Vangelo di Matteo, esistono in tutte le librerie cattoliche, sono anche qui a disposizione. Ma io sono convinto che esiste la necessità di lasciare uno spazio personale allo scavo del testo. È necessario fare per esempio una lettura integrale. Io penso che molti di voi non hanno mai letto, forse, integralmente il Vangelo di Matteo. Letto proprio dalla prima battuta fino all'ultima. E letto naturalmente non con quella conoscenza che può essere richiesta da un grado di lettura debole, come la lettura, tutto sommato, del giornale, ma una lettura saporosa, una lettura che sia anche affettiva, oltre che intellettiva, che sia anche volitiva, che coinvolga anche le decisioni dell'uomo. Ecco, su questo io dico, la coscienza che l'esegeta per primo, ma il maestro in genere, deve avere è quello sempre di dire che non vi ha dato il tutto, che esiste ancora molto da conoscere. Potremmo dire che le nostre letture dovrebbero sempre essere infinite, nel senso che non sono compiute, ma anche nel senso che riguardano dei testi che di loro natura, provenendo per il credente da Dio o provocando il mistero dell'uomo, sono infinite, perché Dio e l'uomo sono due poli in realtà, misterici, e quindi come tali infiniti. A me ha sempre fatto impressione, e lo userei proprio come paradigma quasi, come emblema, alla storia di quel pittore francese Pierre Bonnard, nato nel 1867 e morto nel 47, il quale era il terrore, diventato celebre durante la sua esistenza già, era il terrore dei guardiani dei musei, perché egli andava a visitare i musei dove c'erano le sue opere, nascondendo sotto la giacca, sotto il suo mantello, nascondeva sempre pennelli e tavolozza perché tentava sempre di rifinire le sue opere già esposte, considerandole sempre incompiute. Ed effettivamente c'è qualcosa che ci rende l'idea, rende bene l'idea in questo gesto, c'è questa insoddisfazione di raggiungere in pienezza il mistero che è nascosto in quella pagina, e questa pienezza per il credente soprattutto è una pienezza che rasenta tendenzialmente, va all'infinito. E quindi come tale c'è sempre questo qualcosa in più da scoprire. E allora ecco, questo lavoro continuo, c'è uno dei versi più belli di un poeta che è poco stimato da noi, solo recentemente hanno fatto un'ottima edizione integrale delle sue poesie da Garzanti, e il poeta era un religioso, Rebora, Clemente Rebora, un grande poeta, nonostante sia stato un po' emarginato nella Repubblica delle Lettere Italiane. Ha un verso, voglio citare solo un verso che per me è folgorante, serve un po' per riassumere i due verbi che ho detto prima, ascoltare e leggere, e per indicare che c'è qualcosa di più, che si ha qualcosa di più dopo questo ascoltare e leggere. Il suo verso è «La parola, con la P maiuscola, la parola zitti parole mie». E io sento qualche volta, e dovrebbe essere più spesso la consapevolezza mia questa, di avere una parola che zittisce le molte parole mie. E quindi questa lettura che voi fate avrebbe proprio lo scopo di far risuonare nella sua purezza la parola, che fa tacere anche tante altre parole, pur necessarie ma pur sempre secondarie. E il terzo verbo, che io metterei come verbo metodologico, ascoltare, leggere, il terzo interpretare. In un tempo in cui siamo tentati dal letteralismo, avete sentito questa parola che da noi non si conosceva, adesso bene o male anche quelli che non sono molto addentro in teologia, l'hanno sentita più di una volta, la parola fondamentalismo, che è una grande piaga che colpisce gli Stati Uniti d'America, con le molte sette, anche molte comunità, persino molte chiese americane, sono tentate dal fondamentalismo. Ora questa parola si sta trasferendo anche da noi. Noi siamo abituati di solito a dire fondamentalismo islamico, ma in realtà esiste un pericolosissimo fondamentalismo cristiano che è contrabbandato sotto idea di misticismo, di fedeltà, di letteralismo, di attenzione alla parola, eccetera. In realtà è negare l'anima del messaggio biblico. L'anima del messaggio biblico è, come ben sapete, quello dell'essere un messaggio incarnato. E quindi come tale rivestito di carne, di elementi che sono contingenti, e leggere il testo brutalmente come se fosse una serie di tesi astratte e fredde vuol dire contraddire l'incarnazione stessa. Ed ecco allora queste degenerazioni per cui la parola viene assunta in una maniera così meccanica, così biologica, senza tenere presente che invece è una realtà poetica, cioè nel senso più nobile del termine è una realtà simbolica, unitaria, che ha in sé dimensioni diversissime e che è una realtà che può diventare poetica, come si dice in greco, cioè creatrice, fattrice di elementi, solo in quanto ha avuto prima quella percezione poetica. Altrimenti io sono in quell'atteggiamento che è stato bollato con asprezza ma con verità da Paolo. La lettera uccide. E difatti noi vediamo che tante letture, con tutta la buona fede, fondamentaliste sono un'uccisione della Bibbia, alcune volte dell'uomo stesso. È lo spirito che dà la vita. E allora ecco, l'interpretare. Il filosofo francese di religione israelita è attento alla lettura della Bibbia, con la tradizione giudaica, anche con qualche limite, certamente il filosofo Levina spesso ha ricordato questo principio dell'andare al di là del versetto. E forse questo principio è stato formulato in maniera limpidissima da un grande filosofo del nostro secolo, uno dei decisivi del Novecento per la cultura contemporanea laica e anche cristiana, Martin Heidegger, il quale aveva cognato quella famosa frase che in tedesco dice Auslegen ist das Ungesakte Sagen, cioè interpretare e dire il non detto. E c'è un non detto che bisogna tirar fuori, questo Ungesakte, che dobbiamo estrarre da ciò che si dice, dal Sagen che si pronuncia. Ecco allora questa triade, per ora. Altre volte evocheremo altri elementi, ma questi tre elementi sono un po' la base dalla quale non si può mai prescindere, ascoltare, penetrare nella lettura e saper interpretare il testo, non leggendolo con la povertà della lettera, ma con la ricchezza dello spirito. Ed ora partiamo per il Vangelo di Matteo dal reale. Noi che cosa abbiamo? Abbiamo di fronte queste 28 pagine, 28 capitoli. Sono il dato che noi possediamo. Prima di cominciare a fare tante ipotesi partiamo da questo dato, sapendo che il dato che abbiamo di fronte nasce da una genealogia. Ha alle spalle una vera e propria complessa storia sulla quale gli studiosi da tempo si stanno accanendo, soprattutto nell'interno di questo secolo, con studi sempre più raffinati, sempre più sofisticati. Io vi ho già detto, mi pare, altre volte che veramente l'esegesi più difficile non è quella dell'Antico Testamento. L'esegesi più difficile non è quella di Paolo, anzi vi dirò, è la più facile per gli esegeti. Paolo è sicuramente il testo più limpido. L'esegesi più difficile è quella dei Vangeli, quella che a voi sembra così spontanea, così immediata, così scontata persino. Proprio perché i Vangeli sono frutto di un processo, frutto terminale di un processo che conosce tappe difficilissime, che conosce momenti, situazioni diversissime, che conosce strati diversi. è quel famoso processo di identificazione quasi radiografica, per cui la pagina dell'Evangelo, così noi come la possediamo ora, viene quasi fatta passare attraverso un filtro che è storico, letterario, teologico, alla riscoperta di ciò che è stato alle spalle. E alle spalle noi sappiamo, c'è stato, dietro subito le spalle di Matteo, c'è probabilmente qualche testo già scritto. Noi siamo certi ormai, gli studiori sono quasi certi, che Matteo ha usato certamente il Vangelo di Marco, egli lo conosceva già. E Matteo, per cui non diventa più il primo Evangelo, come si diceva nella tradizione, ma sicuramente il secondo. E ancora, noi sappiamo che, per esempio, gli studiosi parlano spesso di una fonte Q, indicando con questa lettera Q un'abbreviazione della parola tedesca Qwelle, che vuol dire fonte. Esisteva quindi una fonte, una fonte di detti che era stata scritta, per cui esistevano già dei materiali scritti, e su questo tra poco ritorneremo. Matteo non parte dal nulla, ha alle spalle già qualcosa di scritto, qualcuno pensa persino dei racconti della passione. Noi diremo, mi pare già dalla prossima volta, dal prossimo nostro incontro, diremo, esisteva probabilmente già un protovangelo dell'infanzia, cioè esistevano già delle schede, dei testi già scritti, già cristallizzati, con un inchiostro, diremmo noi, con una pergamena, con un papiro, esistevano già dei protovangeli. Ma ancora, se andiamo più indietro, facciamo un salto oltre le spalle di Matteo, noi arriviamo alla predicazione orale, a quella che ormai è riconosciuta nell'interno di questi testi stessi, perché questi testi riflettono certamente un parlato, riflettono certamente una predicazione. Di questa predicazione noi siamo riusciti ormai a identificare i temi, gli schemi, le modalità. È il famoso, celebre, Kerigma, l'annuncio. Questo annuncio che veniva proclamato da questa comunità cristiana primitiva e veniva affidato in quel caso non a parole scritte, le parole scritte appariranno, ma veniva invece affidato alla pagina viva della memoria degli ebrei, degli ascoltatori giudeo-cristiani e poi degli ascoltatori pagani, romani, eccetera. E ancora, se risaliamo più indietro, quella voce non è una voce che sboccia semplicemente il giorno di Pentecoste, tanto per usare il punto di partenza definito dagli atti, è una voce che ha lontana ma sensibile, udibile, la voce di Gesù stesso. Il Gesù storico che parla, la predicazione della Chiesa, i primi scritti, gli Evangeli. Come vedete, una genealogia. Ecco, noi ora cerchiamo nell'interno di questo prodotto finale di vedere non solo questa lunga traiettoria, lo faremo un po' durante questo percorso, ma soprattutto adesso di vedere questo prodotto terminale come si presenta. Perché è un prodotto che non è semplicemente eco, che riflette soltanto quei passaggi precedenti, è anche realmente un prodotto redazionale. Mi spiego in maniera più semplice. Matteo è un autore che avendo alle spalle queste sorgenti diverse, le ha volute organizzare. Noi la prima cosa che facciamo, io ho intitolato questa conferenza è il progetto evangelico di Matteo. Ecco, la cosa che noi dobbiamo subito fare è quella di identificare questo progetto. E questo progetto parte innanzitutto con una realtà, un elemento, che per Matteo è fondamentale, che dobbiamo subito mettere in apertura. Io non dico qual è subito, evoco invece un simbolo, un simbolo che si trova all'inizio e alla fine del Vangelo. È un monte. Sono monti diversi, è il monte. Pensiamo, quando Matteo deve costruire le tentazioni di Gesù, è un trittico, le tentazioni di Gesù, le ricordate, Gesù è tentato in tre momenti diversi. Luca mette come punto terminale della tentazione Gerusalemme, il pinnacolo del Tempio, vertice della tentazione. Matteo invece mette il monte, un monte altissimo, si dice nel capitolo quarto, versetto ottavo. Comincia già, proprio in apertura, quando Gesù entra in scena e comincia a fare la sua grande scelta messianica, scartando tutti i messianismi deteriori proposti dalla tentazione, in quel momento Gesù si rivela su un monte, fa questa ultima scelta su un monte. E la vera ultima tentazione di Gesù non è quella supposta da Scorsese. La vera ultima tentazione, la vera fondamentale, che è la radicale anche per noi, è la tentazione dell'orgoglio, è la tentazione del potere, è la tentazione di un messianismo trionfale, su quel monte, i regni della terra, iniziare una grande avventura, che è l'avventura del trionfo, della conquista, quel sogno sottilmente diffuso, anche in alcune pagine dell'Antico Testamento e del Giudeismo forse, che non è forse da escludere completamente, perché può esistere anche un dominio che non sia oppressivo, però d'altra parte è una strada che Cristo quasi subito accantona. È una strada che non è quella del suo monte. Il suo monte appare nel capitolo quinto versetto uno. Salì su un monte, o sul monte per eccellenza, e lì comincia la celebre, il celebre discorso della montagna. È il discorso fondamentale. e naturalmente se voi doveste immaginare il volto di Gesù in quel momento sul monte, automaticamente dovreste far sì che la filigrana che sta sotto a quel volto, nel discorso di Matteo, nella penna di Matteo, la filigrana è quella di Mosè. Il monte delle beatitudini che è in Galilea, anche se non sappiamo esattamente dove, e il monte Sinai che è lontano migliaia di chilometri si intrecciano per Matteo, si sovrappongono e costituiscono l'unico monte, il monte della rivelazione, il monte della nuova solenne manifestazione del Cristo con la sua nuova legge, che è non la cancellazione della precedente, ma anzi l'efflorescenza suprema della precedente. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a pienezza. E allora il monte diventa ancora un elemento significativo, ma in questo caso rivela il senso del Vangelo di Matteo nell'interno del volto di Gesù ritrovare il volto di Mosè, il nuovo e perfetto Mosè. E alla fine il Vangelo di Matteo, come ben sapete, si chiude su un monte. Capitolo 28, versetto 16, gli undici sono rappresentati in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato per l'addio definiti. E allora ecco che possiamo dire che il Vangelo di Matteo certamente ci presenta un Cristo solenne, certamente, un Cristo glorioso, un Cristo come è stato detto Pantocrator, come è ricordato anche dal manifesto, un Cristo glorioso, trionfatore non attraverso la via del trionfo politico terreno, ma attraverso la via della croce, ma Signore, Signore solido sul suo trono, sul suo monte, ma sintesi di tutta la storia della salvezza. Alle spalle ecco la parola che volevo mettere, è tutto l'Antico Testamento. È il volto solenne di Gesù, non dimentichiamo, noi siamo re, due ci abbiamo letto insieme tempo fa il Vangelo di Luca, io vi ho detto che il Vangelo di Luca è un volto molto umano del Cristo, molto dolce, il volto del Gesù di Matteo è invece un volto serio, è un volto proprio avvolto nella grandezza del Sinai, nella teofania, in questo senso dobbiamo dire che anche se è stato tanto criticato, il Vangelo secondo Matteo di Pasolini con questo Cristo sempre severo, aveva colto un elemento effettivo del Vangelo di Matteo, un Cristo trascendente, e io direi al di là della sua interpretazione con tutti i limiti anche che aveva questa interpretazione, secondo me è ancora uno dei film molto belli tra l'altro su film cristiani diciamo, anche se scritto da una persona forse in ricerca, misteriosamente in ricerca, è anche un modo per riuscire a vedere come un laico possa leggere il Vangelo di Matteo e coglierne l'anima quando ha il cuore aperto, quando si lascia tentare da questa parola, e in questo senso per me è molto più ricco e l'ho detto già altre volte e non vi dovete per questo stupire, è infinitamente più ricco del Gesù di Zeffirelli per me assolutamente insopportabile, assolutamente lontano dalla pagina evangelica e Zeffirelli si dichiara cristiano. La parola fondamentale, Antico Testamento, ecco, Matteo è quello più preoccupato di mostrare questa funzione di asse, di elemento capitale che Cristo ha in tutto il rotolo della Bibbia. Pensate, ci sono almeno 70 citazioni dell'Antico Testamento, allusioni o citazioni, citazioni dirette sono 41, quelle puntuali, 21 citazioni poi sono precedute da quella famosa dichiarazione, quel verbo bellissimo, purtroppo malamente tradotto, plerun, perché si adempisse, perché si compisse, ma plerun in greco vuol dire molto di più, è il verbo della pienezza, se io comincio a dire che è soltanto compimento, adempimento, vuol dire che quella era un annuncio, un annuncio vago che ora finalmente è la pienezza, allora che ci serve l'Antico Testamento? Perché non deve passare neppure un iota dell'Antico Testamento se poi abbiamo di qua il compimento e la lombra? In realtà il verbo plerun dice pienezza, Cristo si concepisce e Matteo lo presenta in questa luce come colui che dà pienezza, che fa fiorire in tutte le sue potenzialità questo lungo discorso che è già partito allora con le pagine dell'Antico Testamento senza, Matteo ci dice, senza l'Antico Testamento tu non capisci nulla del Cristo e il Cristo è per noi ciò che ci fa gustare, amare e comprendere l'Antico Testamento. guai a scindere questi due elementi guai a penalizzarne l'uno o l'altro per il cristiano e allora ecco anche un altro elemento che va in questa linea un elemento che è notissimo io penso che tutti quelli che hanno seguito un corso sul Vangelo di Matteo Pognamo hanno sfogliato un'introduzione del Vangelo di Matteo sanno di solito che si dice il Vangelo di Matteo è costruito in cinque libretti perché cinque sono i discorsi fondamentali cinque discorsi fondamentali voi li conoscete bene li guarderemo un po' brevemente anche noi il primo il discorso della montagna capitoli cinque sette capitolo decimo il discorso missionario capitolo tredicesimo il discorso delle parabole capitolo diciottesimo il discorso ecclesiale comunitario capitoli ventiquattro venticinque il discorso escatologico cinque discorsi attorno ai quali si distribuisce il resto del racconto cinque libretti allora vedete che subito l'evocazione soprattutto per i giudeo cristiani che ascoltavano che leggevano questo testo era evidente che cosa ci dice questo cinque anzi vi dirò subito Matteo ama il cinque il numero cinque cinque è la Torah naturalmente i primi cinque sacri libri della Bibbia che costituiscono il cuore del giudaismo sintesi e compegno di tutto l'antico testamento ma non basta noi sappiamo che la tradizione giudaica aveva diviso il salterio che è la risposta alla parola di Dio alla legge la Torah è quasi la parola di Dio la legge il salterio è la preghiera dell'uomo c'è la risposta dell'uomo come l'aveva organizzato il salterio la tradizione giudaica in cinque libri ma ancora nella liturgia sinagogale nella tradizione giudaica esistevano anche le cinque megillot cioè i cinque rotoli erano cinque libri della Bibbia il cantico Ruth lamentazioni Coelet e Esther cinque libri che venivano usati di più con più piacere nell'interno della liturgia sinagogale esisteva un altro cinque e Matteo riprendendo quindi tutta questa tradizione del cinque ci offre questa struttura del suo Vangelo ma se noi andiamo poi a cercare nell'interno vediamo che il cinque che ci ricorda la Torah che ci ricorda il cinque sacro dell'Antico Testamento è anche seminato qua e là abbiamo per esempio nel capitolo quinto come vedremo cinque volte io vi dico mostrando quella famosa efflorescenza che vuol dire anche qualche volta esplosione del testo in tutte le sue potenzialità quel testo dell'Antico ancora imprigionato viene fatto esplodere nel suo significato cinque volte ma io vi dico ancora abbiamo alle soglie della fine della vita sua Gesù che per cinque volte è in controversia col mondo giudaico ufficiale sono le famose cinque controversie che si trovano nei capitoli ventuno ventidue del Vangelo ancora i pani moltiplicati Matteo è l'unico che ci ricorda che sono cinque altri evangelisti danno numeri diversi egli preferisce il cinque le parabole sue amano tante volte giocare su questo numero cinque vergini stolte e cinque prudenti e ancora la parabola dei cinque talenti il cinque per evocare sempre questo Antico Testamento in maniera simbolica come usano gli orientali e lui parla come vedremo per orientali ancora il cinque lentamente diventa un numero biblico un numero vetero testamentario caro diventa sette se noi guardiamo il Vangelo nella sua pienezza perché se è vero che è costituito da cinque libretti centrali è anche vero che ha all'inizio il testo del Vangelo dell'infanzia e in finale ha invece il racconto della passione e resurrezione e allora i cinque libretti sono racchiusi nell'interno di altri due libretti così da costituire il sette della perfezione e sette saranno le domande del padre nostro di Matteo rispetto a quelle di Luca che sono quattro soltanto sette saranno le beatitudini l'ottava è un'aggiunta redazionale posteriore probabilmente sette sono le parabole del capitolo tredicesimo sette sono i guai contro la religione ipocrita del capitolo ventitresimo e quattordici per tre quattordici un numero emblematico due volte sette di perfezione quattordici per tre volte sono gli anelli della genealogia di Gesù vediamo nell'interno di questi meccanismi che a noi sembrano estrinseci il tentativo di raccordare il Cristo alla pienezza della simbologia numerica così come la usava l'antico testamento e naturalmente la cosa va avanti perché Matteo per esempio amerà anche il numero tre un altro numero di perfezione quasi per riassumere nell'interno del testo suo tutta la geometria l'armonia l'architettura dell'antico testamento tre tentazioni tre esempi di carità ostentata tre preghiere nel Gezzemani tre rinnegamenti di Pietro quando si deve parlare della decima si fanno tre esempi la decima per la menta per la neto e per il cumino e allora a questo punto possiamo fare un passo in avanti visto la prima parola antico testamento il vangelo di Matteo come il Cristo perno centro coordinatore di una parola che si distende una parola di Dio che si distende anche nel passato non solo nel presente per cui senza l'antico testamento Cristo è incomprensibile dopo aver affermato questo Matteo ci presenta un'altra parola e questa parola possiamo usarla noi una parola moderna giudeismo e il discorso è questo chi convoca Matteo ad ascoltare a chi Matteo si indirizza è chiaro sono dei conoscitori della Bibbia e ormai è d'accordo da tempo la tradizione esegetica anche se con qualche eccezione nel riconoscere che Matteo ha scritto per giudeo cristiani per gente che conosceva bene l'antico testamento nel 1928 quindi 60 anni fa uno studioso tedesco von Dobschutz ha scritto un libro nel quale sosteneva che l'autore vero di Matteo al di là dell'apostolo punto di partenza come sempre della tradizione era uno scriba giudaico convertito al cristianesimo perché il Vangelo è troppo marcatamente giudaico anche se polemico nei confronti del giudeismo e vedremo questo sarà una componente chiese e sinagoga sono chiaramente in tensione nel Vangelo di Matteo uno studioso scandinavo decenni e decenni dopo una ventina d'anni fa Christer Stendhal ha scritto invece un libro sulla scuola di Matteo e ha immaginato che il Vangelo di Matteo sia nato nell'interno veramente di una betta midrash di una vera e propria scuola rabbinica cristiana in cui si adottavano gli stessi metodi gli stessi stilemi le stesse forme di espressione proprie del mondo giudaico ma ormai trasferita questa nuova parola che era la parola del Cristo l'ipotesi allora la tentazione che è emersa anche nei secoli passati ma soprattutto secolo scorso inizio di quest'anno è stato quello allora di dire che il Vangelo di Matteo e questa forse è un'ipotesi che avrete sentito anche voi formulare è stato il primo di tutti i Vangeli non tanto per questo suo testo perché il testo finale che giunge a noi difficilmente lo si può affermare come primo dipende troppo da Marco ma come testo che è stato scritto inizialmente in aramaico o in ebraico più probabilmente in aramaico tutto nasce da una dichiarazione di questo vescovo famoso papia di Gerapoli di Frigia la famosa città della Turchia con le cascate bianche fissate nel calcare quel castello di cotone si chiama attualmente questa città Gerapoli Gerapolis città santa si chiama Pamukkale in turco e significa castello di cotone con queste immagini storie lì questo vescovo dei primissimi anni del cristianesimo ha scritto questa frase ha tramandato questa frase Matteo mise insieme in dialetto ebraico quindi probabilmente intende aramaico i logia cioè in greco i detti di Gesù e ciascuno li tradusse secondo la propria capacità una notizia che complica le cose in realtà più che chiarirle perché qui direbbe che Matteo ha fatto una prima organizzazione di un Vangelo sulla base dei logia cioè dei detti di Gesù che giravano che erano tramandati a memoria o forse già scritti in qualche punto e poi successivamente sono avvenute queste probabili traduzioni ciascuno li tradusse secondo la propria capacità o ciascuno li interpretò secondo la propria capacità affermando la diffusione del Vangelo di Matteo ora che cosa dobbiamo dire gli studiosi adesso sono tutti molto scettici nei confronti dell'esistenza di un Vangelo aramaico di Matteo iniziale la maggior parte degli studiosi ritengono che questo sia una descrizione molto stereotipa molto stilizzata per dire una cosa di cui siamo continuamente testimoni ed è questo secondo elemento che io voglio sottolineare il Vangelo di Matteo è profondamente giudaico è profondamente semitico noi non possiamo accettare sulla base di questo testo la possibilità di vedere di intravedere nell'interno del testo quasi l'originale da cui si traduce assolutamente improponibile chi l'ha proposto recentemente Carmignac uno studioso francese ora morto in un libro che è stato tradotto anche in italiano la nascita dei Vangeli Sinottici l'ha fatto secondo me in maniera assolutamente insoddisfacente l'ha fatto in una maniera assolutamente faziosa è un libro da sconsigliare questo stato stroncato da quasi tutti gli esegeti che studiano seriamente questo problema è il sogno di trovare sapete quel Vangelo molto vicino vicino quasi direi l'eco immediato il respiro delle parole di Gesù questo noi non lo possiamo dimostrare scientificamente anche perché Matteo rivela l'uso di Marco come elemento fondamentale secondo cosa curiosissima quando deve citare l'antico testamento anziché citare l'antico testamento nell'originale ebraico traducendo dall'originale ebraico cite i 70 dipende dalla traduzione greca ma secondo me ci sono altri elementi che sono ancora più significativi che mostrano che questo testo originale che abbiamo è l'originale è il testo greco è stato composto in greco il Vangelo di Matteo dopo Marco e sono degli elementi che sono impossibili assolutamente in aramaico ci sono delle parole che in aramaico non esistono parousia non ha l'equivalente in aramaico o in ebraico palingenesi non ha l'equivalente mondo non ha l'equivalente e anche stessi elementi come il genitivo assoluto è caratteristico del greco egli lo usa anche se il suo greco è un greco come diciamo subito fortemente usato da uno che parlava un'altra lingua anche o che conosceva un'altra lingua o che veniva da un mondo che era il mondo semitico sarebbe come una composizione fatta da uno che lo si diceva mi pare a proposito di Nabokov anche se egli lo faceva in maniera intenzionale cui inglese era un inglese infiltrato ibridato continuamente dal russo da cui partiva che era un po' il suo sottofondo ci sono degli elementi vorrei farvi vedere una curiosità una curiosità un po' filologica forse un po' difficile ma che vi potrebbe far capire come noi siamo in presenza di un testo che si riflette subito come testo greco e qualche volta anche magari dare qualcosa alla filologia non è neppure un male 6.16 gli ipocriti quando digiunano sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano questa frase è in greco costruita in modo tale da fare un gioco di parole e quindi suppone che questa frase sia stata scritta proprio in greco per fare il gioco di parole infatti sfigurano in greco c'è afanizusin per far vedere fanosin lo sfigurare che diventa l'immagine ipocrita con un gioco di parole suono identico che si copre vedete il lavoro indiziario che deve fare l'esegetta tante volte ho voluto ricordare questo particolare tutto sommato marginale per mostrare come il lavoro deve essere anche minuto e nei particolari io ho avuto una cosa che mi ha impressionato recentemente avete forse sentito parlare della grande mostra che hanno fatto per il centenario della nascita di De Chirico a Venezia Maurizio Calvesi ha preparato un grande saggio nel catalogo è una cosa curiosa così per indicare come certe volte la minuzia serva però anche per dare la decifrazione la comprensione di una pagina per esempio è riuscito a risolvere un elemento che finora non era senza spiegazione all'interno della pittura di De Chirico la presenza in alcuni quadri in alcune tele della di un frutto di una banana si erano date tutte le interpretazioni più più strane più sofisticate più esoteriche persino invece con un colpo di intuito Calvesi ha trovato la soluzione avesse vede che De Chirico è il famoso pittore delle muse e muse inquietanti ebbene il nome scientifico vegetale della banana è musa paradisiaca e allora capite che l'allusione era legata proprio al nome scientifico di quel frutto quel frutto diventava un ammiccamento a questo grande simbolo usato spessissimo da questo pittore ecco questo lavoro identico e a questo punto allora possiamo dire il Vangelo di Matteo noi lo dobbiamo leggere come Vangelo per Giudei per Giudei che hanno cominciato a percorrere la via del Cristo ed ecco allora i moltissimi esempi che noi possiamo rintracciare di fedeltà a questo mondo l'offerta sull'altare la citazione del solo Matteo che è la 5.23 quando tu stai per fare l'offerta sull'altare le frange rituali i filatteri per le famose teche con il rotolino per la preghiera i tefillini i giuramenti la prassi per i giuramenti le abluzioni prima dei pasti Marco cita la cosa ma la spiega usano gli ebrei fare Matteo non spiega questa cosa la triade farisaica della spiritualità farisaica la preghiera il digiuno l'elemosina e gli cita unendole il lavoro permesso ai sacerdoti di sabato nel tempio in questo caso attestando una conoscenza di una tradizione giudaica che nel tempio è in 12.5 questo elemento i sacerdoti nel tempio possono compiere dei lavori anche di sabato la decima per il tempio è citata solo da Matteo la discussione rabbinica sull'ordine dei precetti qual è il più importante dei comandamenti mentre gli altri evangelisti dicono che cosa devo fare per avere la vita eterna mentre la domanda precisa in Matteo è qual è il primo dei comandamenti lo schema sulla base delle centinaia e 613 precetti della legge e ancora l'uso di imbiancare i sepolcri cioè riferimenti precisi al mondo giudaico ecco allora la seconda dimensione che dovremo altre volte rivedere è un vangelo che suppone un luogo ben concreto un mondo ben circoscritto però detto questo il vangelo di Matteo si rivela anche un vangelo che non è per giudei è per giudeo cristiani non è l'annuncio fatto ai giudei perché i giudei abbiano a venire al mondo cristiano non è un vangelo missionario in questo senso non è un vangelo kerigmatico si usa dire per un annuncio a questo mondo come non so poniamo Marco annuncia i pagani vangelo kerigmatico quello di Marco no è un vangelo invece certamente catechetico cioè un vangelo di approfondimento per cristiani che sono venuti dal giudaismo e allora diciamo che anche la terza parola è antico testamento giudaismo cristianesimo la terza parola è quella fondamentale e Matteo la esprime attraverso una sua rappresentazione che ha dato il titolo anche a uno dei commenti più che un commento è un saggio di teologia biblica sul vangelo di Matteo un testo fondamentale di un tedesco è apparso nel 1964 citiamo anche questi che sono i riferimenti anche se non è stato tradotto poi in italiano è l'opera di Trilling questo autore tedesco il quale è intitolato la sua opera da svare israel il vero israele qual è l'idea fondamentale di Matteo esiste non l'antico e il nuovo israele come tante volte si dice l'antico quello che ormai è caduto c'è il nuovo che siamo noi la chiesa per Matteo e vediamo se riesco a rendere l'idea fondamentale che è sottesa tutta la sua visione del cristianesimo esiste una chiesa già nell'antico testamento il vero israele comincia già nell'antico il vero israele dei profeti il vero israele del resto di israele cioè dei giusti il vero israele degli anawim sono tutti costoro la grande processione la grande fila di coloro la grande teoria di coloro che sono già il vero israele e noi ora siamo il vero israele che continua quella linea e la continua riferendosi al Cristo quelli si riferivano al messia nella speranza noi ci riferiamo ormai nella fede e nella certezza e allora ecco che nel vangelo di Matteo appare la figura della chiesa della comunità del vero israele come chiama il vero israele come lo chiama normalmente Matteo lo chiama con un termine con due termini se volete un termine è quasi direi copre completamente il concetto di vero israele chiesa l'altro ne è solo un aspetto e l'altro sarà l'elemento fondamentale primo il discepolo la parola mafetes discepolo pensate che Matteo usa 73 volte questo questo termine e il verbo mafeteo insegnare fare discepoli più esattamente è soltanto in Matteo c'è solo una volta negli atti degli apostoli altrimenti non c'è mai all'interno del nuovo testamento e ancora se volete spingere oltre il Vangelo di Matteo è l'unico che ha in tutto i Vangeli l'unico che ha la parola ecclesia la due volte la in Matteo 16 18 Pietro e in Matteo 18 7 il discorso ecclesiale ecclesiologico la parola ecclesia convocazione significa noi che siamo convocati dal Cristo come l'antico Israele che ha l'adonai era convocato dal Signore questa convocazione è in pratica la definizione del cristianesimo noi siamo i chiamati e siamo in ascolto siamo i discepoli ed ecco allora che mentre Marco mette spesso attorno a Gesù la folla è una cosa curiosa l'ha fatto uno studioso francese Rigaud comparare tutte le volte in cui c'è un racconto uguale in Marco e in Matteo Marco è la fonte di Matteo quindi è curioso vedere quando corregge Matteo Marco mette la folla che ascolta Gesù Matteo cosa mette? per 7-8 volte mette invece i discepoli solo i discepoli è la chiesa che è riunita attorno al Cristo e lo ascolta presenta Pietro nel capitolo sedicesimo come una componente di questa chiesa nel capitolo diciottesimo offre idealmente la struttura di questa chiesa di questa comunità ma c'è una seconda categoria che è molto importante per Matteo e per tutto il Nuovo Testamento è nel cuore della predicazione di Gesù stesso ed è la categoria regno 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 dei cieli regno di Dio regno del Padre sono tutte le forme usate Matteo 54 volte se vale la statistica è qualcosa che viene martellato come prima quella parola discepolo il regno è una categoria è uno schema è un'immagine è un simbolo notissimo all'Antico Testamento un salmo molti salmi il 47 il 96 dal 96 al 99 per esempio un salmo ne scegliamo uno 93 il Signore regna si ammanta di splendore il Signore si riveste si cinge di forza rende saldo il mondo non sarà mai scosso saldo è il tuo trono fin dal principio da sempre tu sei poi c'è questa bellissima descrizione coreografica delle forze ostili i fiumi il caos acquatico alzano i fiumi Signore alzano i fiumi la loro voce alzano i fiumi il loro fragore ma più potente delle voci di grandi acque più potente dei flutti del mare potente nell'alto è il Signore Yahweh Malak Adonai Malak il Signore regna questa dichiarazione fondamentale che Isaia rappresenta anche gridata da un araldo sui colli davanti a Gerusalemme il tuo Signore regna questa idea e l'idea del regno è un'idea che cercheremo di sciogliere che incontreremo spesso e che suppone fondamentalmente due dimensioni regno è certamente una azione quindi non è identico alla Chiesa perché? perché se è un'azione è il re che regna è il re che regna il Cristo ho detto questo quanto crator che entra nell'interno della Chiesa che entra nell'interno del cosmo stesso l'idea quindi fondamentale dovremmo dire regno dovremmo tradurlo noi non abbiamo l'equivalente dovremmo tradurlo con l'inglese kingship regno francese se si vuole anche un pochino künigtum tedesco forse meglio herrschaft dovremmo renderlo con qualcosa che è simile al nostro signoria è il regno in senso attivo quando io annuncio il regno del Signore in mezzo a noi devo dire che il Signore agisce nella storia ma secondo ecco perché ho detto che è anche qualcosa che riguarda la Chiesa credo che sia chiaro questo concetto il regno è anche un terreno è anche un territorio è anche un kingdom è anche un royum un reich è qualcosa che è riconoscibile in frontiere e allora ecco che esiste questo queste frontiere che sono misteriose non si identificano completamente con la Chiesa ma passano anche nell'interno della Chiesa la Chiesa è una porzione di questo regno in cui c'è la regalità potremmo dire ecco la signoria del Cristo e questo regno è perciò il luogo nel quale noi dobbiamo entrare vedete che il Vangelo di Matteo è continuamente questo appello il regno dei cieli è simile a il regno dei cieli è un'espressione tra l'altro che ancora una volta conferma l'ebraicità il semitismo di Matteo perché il mondo semitico non ama molto soprattutto il mondo ebraico non ama pronunciare il nome di Dio e allora invece di dire Dio come farà Luca normalmente Matteo prende il modo eufemistico non diciamo il nome di Dio diciamo il suo luogo e in questo caso gli studiosi sentono bene l'espressione aramaica certo da cui partiva in aramaico c'è un'espressione malcutà di shmaià che è il regno dei cieli per indicare il regno di Dio Matteo ci ha presentato ha presentato a tutti noi allora un primo disegno un primo progetto in questo progetto adesso noi dovremo lavorare questo progetto ripeto comprende tre esigenze la prima conoscere la Bibbia conoscere l'Antico Testamento seconda esigenza essere nell'interno di una situazione ben precisa con la quale ci sarà anche un confronto scontro il giudaismo terzo però essere i discepoli del regno e in finale lasciamo anche il volto di Matteo Matteo in aramaico significa dono di Dio mattai deriva l'ebraico è mattania è la stessa cosa dono di Dio noi sappiamo che il suo volto è nell'interno di queste pagine sostanzialmente è in quello che lui ha scritto o comunque in quello che lui ha predicato e che poi è stato scritto sulla sua parola i studiosi sono convinti che il suo Vangelo è stato scritto dopo il 70 dopo la distruzione di Gerusalemme in un ambito siro-palestinese e il volto di Matteo detto ci sfugge ma io amerei ricordarlo per tutti voi ricordarlo in un punto in un punto preciso della sua storia quel punto preciso che è ricordato da tutti i sinottici anche dagli altri evangelisti la sua famosa chiamata a Cafarnao quella chiamata mentre egli era al tavolo delle imposte noi sappiamo che Cafarnao era un centro dal quale passava una strada che andava in Siria attraversando la Palestina là Matteo era seduto espletando una funzione non mai amata nella storia dell'umanità ma non amata in particolare in quell'occasione perché come sapete gli esattori in quel momento rappresentavano un potere che era quello ormai sempre più dominante e il potere romano non era ancora del tutto sopra con la mano di ferro però ormai era vicino ad essere vera e propria oppressione e la sua vita viene cambiata proprio da quell'incontro in quel giorno io non ho potuto non mi sono ricordato non ho pensato di far mettere proprio qui in finale questa volta un'altra siamo partiti con una immagine finire con un'immagine forse qualche uno di voi già comincia a pensare quale immagine un'immagine tanto bella che io ho ricordato sento che già alcuni la dicono che anch'io ho ricordo con estrema tensione quasi io quante volte da studente mentre ero studente a Roma sono andato a vedere la vocazione di Matteo che c'è a San Luigi dei Francesi nella celebre cappella Contarelli questa opera straordinaria del Caravaggio la vocazione di Matteo quella esperienza nell'oscurità che è squarciata da una luce secondaria luce di una finestra ma è squarciata soprattutto dall'irruzione di questo personaggio questo personaggio che ha cambiato la vita di Matteo questo personaggio che ora è anche colui che noi dovremo cercare nell'interno del suo libro del libro del gabelliere Matteo grazie